Questo evento di sabato e domenica è molto importante, è quello di valorizzare tutti i prodotti tipici di questa vallata, l'autunno di Vallefoglia, qui in via Piola Torre, in questo centro commerciale, nella città di Vallefoglia, ma tendiamo a valorizzare dal punto di vista turistico e gastronomico, della bella agricoltura e buona agricoltura che ancora c'è, nonostante che sia una città industriale, i prodotti della terra, il tartufo bianco e nero che c'è come in altri luoghi, l'olio extravergine d'oliva, il nuovo olio che è davvero straordinario, ha un profumo eccezionale e poi una nuova attività produttiva come quella del melograno, sono almeno una quarantina nella vallata del Foglia le aziende che fanno questo tipo di produzione, che fa anche bene alla salute e poi il miele, che è un altro dei prodotti tipici di questo territorio, se uno va oggi nel mercato di Montecchio vede quanti di questi prodotti di cui dico ci sono in questa vallata e non per ultimo il buon vino, non solo il vino della Morciola, il vino del Conventino, il vino di questo territorio delle Marche, del nord delle Marche, della vallata del Foglia. Sono tre gli eventi diciamo su cui abbiamo puntato per coinvolgere maggiormente il pubblico, il primo è sabato alle 16, una sfilata di moda con la partecipazione del negozio specializzato di Montecchio Baby Nut e quindi abbinamento da 0 a 10 anni, sarà molto tenero vedere questi bambini sfilare, poi domenica invece sempre alle ore 16 sul palco ci sarà Bicio, l'antidepressivo naturale o barzalettire d'Italia che dir si voglia, quindi per regalare un po' di buon umore di questi tempi ce n'è proprio bisogno e invece sia sabato che domenica ci sono le degustazioni guidate dal grandissimo sommelier e enogastronomo Otello Renzi che abbiamo chiamato di vino in vino perché ci sarà la possibilità proprio di conoscere i vini locali nel migliore dei modi presentati dalla sua dente e autorevole voce di Otello Renzi. Abbiamo, grazie alla collaborazione con la Proloco di Acqualagna, abbiamo la possibilità di far trovare qui a Vallefoglia d'autunno proprio il tartufo di Acqualagna. Grazie a tutti.